Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Ah, che entusiasmo! Non è vero, come vedete, lei sta meglio, molto meglio, quindi potete stare tranquilli, però io meno, perché dormo poco per guardare, controllare se sta bene, se non sta bene. Tant'è che stamattina mi sono svegliata talmente presto che questa in realtà è la seconda colazione, è un po' più tardi, stamattina ho già bevuto il caffè, scusate, ma veramente, ovviamente, cioè non potevo pensare a cominciare a fare sto video alle 7 di mattina perché lei mi ha sbagliato, vabbè, insomma, ci sta. Che video è questo? Magari se ve lo dico, a parte l'avete letto dal titolo. Allora, un po' di tempo fa ho fatto un primo episodio di Mangio il più costoso del supermercato, in quel caso avevamo preso una colazione, un pranzo, un aperitivo e una cena, l'avevo scelta io, ok? Ho fatto un menù, ero andata al supermercato e avevo scelto le cose più costose di quel prodotto che dovevo comprare. Ovviamente io sono andata all'emisfero, supermercato, diciamo, marca, ok? Ci sono anche le cose non di marca, cioè della marca del supermercato, però in linea di massima è un supermercato normale, non è del discount. Abbiamo fatto anche un secondo episodio dove le cose però le avete scelte voi, perché io su Instagram avevo dato due opzioni e voi avete scelto cosa farmi mangiare e abbiamo fatto, in quel caso, il più economico di quelle cose. Ora, l'altra volta, tanti sotto nei commenti mi avevano scritto fai anche la versione più economica di quello che hai fatto più costoso. Chi sono io per non farlo? Quindi l'altro giorno, mentre aspettavamo che operassero Babbi, se non sapete perché c'è il video sul canale del perché è stata operata, mentre aspettavamo che operassero Babbi, siamo stati all'emisfero di nuovo e già che c'ero ho preso le cose più economiche. L'altra volta, e ovviamente se non avete visto il video andate a vedere quello del più costoso, stavolta il più economico, avevamo cominciato la colazione con le merendine, e la merendina più costosa sinceramente non era niente di che, io chissà che mi credevo invece. La merendina più economica è stata una mezza sorpresa, perché io mi aspettavo che le merendine più economiche fossero quelle della Selex, che è il marchio del supermercato. che ne sono una crostatina, una cosa così. Invece, non so per quale oscura ragione, e non era in offerta, era a prezzo suo, la merendina più economica è questa, che mi piace pure. Mi comprava mia nonna quando ero piccola queste merendine, stavano sempre dentro casa mia. Il trancetto al cacao, con crema al cacao. Sono di Balconi, di questa marca qua, e questo era il modello più economico. 4,60 euro al chilo. Le altre, ci stanno merendine da 12-13 euro. Ah, quella che abbiamo comprato l'altra volta. Tra l'altro, in questa scatola ce ne stanno ben 10. Chissà. Mi ricordavo più grosse, ma è come un po' tutto, cioè se è tutto rimpicciolito. Sono 28 grammi di merendina al cacao. Assaggiamo. Ripeto, il caffè non ce l'ho, perché l'ho già bevuto stamattina. Non voglio essere troppo nervosa. Mettiamola così. Però adesso sì, assaggiamo la merendina. Poi abbiamo un pranzo che ha subito una variante, ma dopo vi racconto. E anche l'aperitivo in realtà ha subito una variante, ma poi vi spiego. Cioè, non aveva senso, ok? Quindi dopo vi spiego tutto. Mentre la cena è la cena dell'altra volta, ma economica. Manco troppo economica, se proprio vogliamo dirla tutta. Allora, questo è il trancetto. Ci sarà la crema al cacao? Da davanti sembra di sì. Voglio sapere se esso... Ah! Però! È in tutta la merendina la crema al cacao. Wow! Cacao? Un po' asfutta. Non è bagnato con niente. Quindi è un po'... Però non è male. Azzarderei meglio di quella più costosa. No! Sta marca fa delle buone merendine. Sapete che fanno buonissimo? Il rotolo. Bene! E' una seconda colazione, ma almeno è abbastanza soddisfacente. Certo. Non è una kinder deliz, ma... Neanche una fiesta. Ma abbiamo scoperto che quelle non sono le merendine più costose. Ci vediamo al pranzo. Con una sorpresona. Per voi, non per me. Non so se mi piacerà. Lo scopriamo dopo. Eccoci qua! Allora, il pranzo dello scorso video, quello più costoso, comprendeva una zuppa pronta, ma era una zuppa pronta del banco frigo. Il problema è che nel supermercato dove vado, nel banco frigo, c'è solo quella marca di zuppe pronte. Quindi avrei dovuto scegliere un'altra zuppa pronta di quella marca. E non aveva molto senso, in effetti. Poi ho pensato, quando uno vuole veramente risparmiare, che zuppe pronte prende? Prende quelle in busta e scatola, quelle conservate nella dispensa. Mamma mia! Allora, vi lascio il contributo. Il problema delle zuppe pronte è che quelle in scatola sono solo quelle lì del banco frigo, ma sono tutte uguali. Quindi opto per queste in fuori frigo. Se no, non vale. Quindi ora scegliamo quella più economica. Ok, sono queste della Knorr, quelle più economiche. E io non immaginavo, ma queste qui, secche diciamo, hanno dei prezzi assurdi al chilo. C'è, pazzesco, 20,49. Quindi devo scegliere tra una di queste e sceglierò io. E questa è stata la riflessione davanti alle zuppe pronte da dispensa. Io pensavo che quelle nel sacchetto sarebbero state più economiche. Invece, col cavolo, costano un botto quelle al chilo. Perché effettivamente sono disidratate. Mentre invece la più economica era questa, come avete visto. E io ho scelto proprio questa. In realtà l'ha scelta Luca, ma domagna io. Perché l'ha scelta lui? Ce ne erano diverse. C'era vellutata di zucca, vellutata di verdure dolci, che poi è tipo zucca e carota. C'era il minestrone, il passato di verdura. Ma Luca ha detto, no, no, ma via questa. Cereali, zucca e porcini. Secondo me... Cioè io mo' l'ho aperta, no? E l'ho scaldata. A parte vabbè l'ho scaldata in microonde due minuti, perché tanto... Una cosa orrenda. Una cosa orrenda. Io speravo che quelle in lattina fossero... Di marca, eh. Sottomarca non c'era che costasse meno di questa. Però una cosa orrenda. Puzzolente. Posso dire puzzolente. Acqua, cereali, carote, funghi porcini, zucca, amido di patate, sedano, cipolle... Vabbè, oli vari. Allora. Puzza. Puzza. Eh, quando una cosa puzza ha un odore sgradevole. Ok? Mettiamola così. Sembra una brodaglia. Sai, tipo quando ti rimane il fondino del lavandino che... E' terribile. Allora, a parte che ci stanno tipo quattro pezzi di carota. Ma così, interi. L'odore è... Orribile. Orribile. Non so se è il fungo che ha st'odore terrificante. O tutto in sé proprio. No. Mamma mia. Poi è il mio pranzo davvero. Non mangio altro. Quindi mo' me la mangio. Allora. Il farro è un pappone. Un pappone. Proprio... È come... Dio. Se si fosse cotto troppo. E la parte fuori è diventata... Molliccia. No, vabbè. Ma perché? Ma perché ho fatto scegliere Luca? È questo che non capisco. Cioè... Ma dove mangia io? A me, tipo, la vellutata di zucca. Mi piace. Sta cosa con i pezzi. Che poi lui non l'avrebbe mai mangiata. Perché Luca non mangia cose con i pezzi. Ma poi pizzica. Però non è piccante. È più... Sì, c'è il peperoncino. Però è più acidità che piccantezza. Ma io già so a casa col cane. Sono chiusa qua dentro da tre giorni, no? Mamma mia. Abominevole. Abominevole. E poi... Queste cose... Quelle lattine, tipo, pasta e fagioli, pasta e ceci. Quelle cose sono buonissime. Questo è il brick, un po' meno. Però... Cosa è un malo? Avellutata. Ma questa è proprio... Che schifo di pranzo. Allora. Per quanto riguarda l'aperitivo. Visto che per aperitivo avevamo mangiato i ceci croccanti. Voglio dire, i ceci croccanti io già li faccio nella versione più economica. Perché da solito i comprati l'Eurospin. Farvi rivedere la ricetta dei ceci croccanti non aveva molto senso. Quindi stavolta ho scelto un dolce. Ho preso un dolce. Volevo prendere un dolce di quelli del banco frigo. Ma, regà, io mi devo mettere a vedere tutti i prezzi. E davanti al banco frigo, tipo, quelle cose tipo da net, cose così, c'erano tipo 10-20 persone. Non lo so, continuava ad arrivare gente. Non so perché. Ero già nervosa del cane che se stavo perà mi sono spazientita. E quindi sono andata nel luogo dove in questo momento c'era meno gente possibile. Perciò ho scelto un gelato. Quindi, ora vediamo se mangiarlo a merenda, tipo, invece dell'aperitivo faccio la merenda col gelato, o dopo cena. Ci penso. Incanto mi mangio questa cosa orribile. 3,80 euro, spicci al kilo. Male, male. Malissimo, malissimo. Ci vediamo dopo. Merenda! Perché in realtà sto giocando. Sto giocando, si è spento. Mentre andavo a prendere la merenda, sto giocando a Dreamlight Valley. Tanto per cambiare. No, raga, cioè, sono bloccata in casa. Luca non c'è perché è andato a suonare. Questi dormono perché lei si riposa e sono tutti stranamente tranquilli. Boh. E quindi merenda. Allora, l'altra volta ho fatto l'aperitivo. Aperol Spritz, quello in bottiglietta. Tra l'altro non mi è piaciuto. E ceci croccanti. Ceci croccanti sono ceci, come ho detto prima. Quindi ho cambiato. Solo che non sapevo con cosa cambiare. E quindi ho cambiato con una cosa che mi sarei potuta mangiare sia a merenda che dopo cena. E, indubbinate, ho scelto il gelato. Allora, il gelato, perché sostanzialmente davanti alla vetrina del gelato non c'era nessuno. E eccolo qua. L'ha scelto Luca in realtà. Cioè, non è andata proprio così. È andata così. Allora, il gelato lo facciamo scegliere a Luca. Tra questi, che sono quelli che costano meno, ovvero 3,29 al chilo. È un chilo del gelato. Scegli! Tartufo, caffè, fior di latte e caramello? È come di, non so, una pasta... Ah, c'era pure spagnola, zabbaglione. Tonno, speck e rucola. Ah, ma guarda che c'è pure spagnola, zabbaglione, pistacchio e tartufo, eh. Puoi impotare il caramello perché dovevamo comprare niente? Sì. Cioè, adesso siamo entrati a fare una passeggiata, mentre aspettiamo Babi. Vabbè. Ok, lui ha scelto un altro gusto, però a me non mi piaceva. Cioè, non è che non mi piaceva, era pure buono, ma questo era più buono. Quindi, diciamo che gli ho fatto cambiare idea. Ma lui, l'ha deciso lui. L'ha deciso lui. Allora, questo è il gelato che costa meno, o meglio. C'era un gelato che costava meno, che era il ghiacciolo. Ma il ghiacciolo non è un gelato. Il ghiacciolo è acqua, zucchero, sciroppi e congelamento. Quindi, no. Cioè, anche perché già fa freddo per mangiare il gelato, de base. Quindi, non è che è proprio la stagione del gelato. Anche se, posso dirvi, qui a Perugia non si mangia tanto il gelato d'inverno per strada, diciamo il cono, no? Tant'è che Grom addirittura chiude. Cioè, riapre tipo aprile. A Roma, il gelato si mangia tutto l'anno. Cioè, non è che c'è la stagione del gelato. Tutta una bella giornata a Roma. Cioè, il sole va a mangiare il gelato. Pure 6 gennaio. Mentre qui, invece, no. Curioso. Abbastanza curioso. Ma al supermercato lo vendono tutto l'anno. E questo era quello che costava di meno al chilo. Comunque, era quello che costava di meno. Mi piace? Boh, manco troppo. Nel senso, speravo in un gelato. Proprio tipo cono, cornetto, biscotto. Ma quelli costavano molto di più al chilo. Questo invece costava meno. Tra l'altro penso che sia un chilo. Sì, è esattamente un chilo di gelato. Ne avevamo bisogno? Non credo. Allora, cioè, sì, in realtà. Perché è buono il gelato. Quando te lo mangi la sera sul divano. Nocciolata, tiramisù, stracciatella e crema. Mo' assaggio un po' di tutti e quattro. Poi dopo, stasera, io do a battate grazie. Ora è solo una merendina. Come faccio? Allora, questa è stracciatella perché è bianco. È l'unico bianco. Buonino. Buonino. Poi c'è nocciolata e tiramisù. Regate, questi sono uguali. Questi tanto sono uguali. Come faccio a capire? Vabbè, assaggio è l'unico modo. Che poi lo sapete a me come mi piace il gelato? Il gelato mi piace nel bicchiere. E poi lo fate tipo sciogliere. E fate tipo la pappetta. Quello per me è il top del gelato. Ma che gusto è? Crema. Ah, nocciolata, tiramisù, stracciatella e crema. Questa era crema, credo. Vediamo questo. Questa è tiramisù. Buono. Tiramisù mi piace. Buonissimo. Che in realtà è il motivo per cui ho fatto scegliere questo a Luca. Ho fatto scegliere. Carino. E questa è nocciolata. nocciolata. No. Nocciolata non mi piace. È tipo... Sa di bruciacchiato. Ma riesco già. No. No. Perché non è nocciola. Cioè è tipo una nocciola tostata. No. Allora. Classifica. Ma perché secondo voi adesso smetto di mangiarlo? Certo. Tiramisù al primo posto. Buonissimo questo magnutto stasera. L'angolo del tiramisù. Riposa in pace. Secondo posto stracciatella. Buono. Ma non eccesso. Terzo posto per la crema. Che è un gusto inutile. C'è la crema così. Perchè? Quarto posto per sta nocciolata. Che manco vi riassaggio. Perchè non mi è piaciuto. Non mi mangio un bel pezzo di tiramisù. Buono. Molto. E noi ci vediamo con la cena. Più economica. Ed eccomi qui. Assemblo la cena. Allora. Questo è l'hamburger. Più economico. Più economico. Del freezer. Perchè. Vabbè. Questo lo spiego mentre mangio. Comunque. Sappiate che Balsoia è l'hamburger più economico. Poi. Sta tristezza dei panini. Non lo so. Ma vediamo quando li apriamo. Vi ricordo che quello più costoso. Era in realtà un panino che si sbriciolava. Niente di che. Questi sono quelli più economici. L'unica cosa è che sono veramente piccoli. Ma anche l'hamburger di Balsoia. Quindi. Aspettate. Prendo le sottilette. Ecco. Le sottilette più economiche. Che stavolta effettivamente sono della Selex. Che è il marchio del supermercato. Però so. Un botto. So 16 sottilette. Quelle più costose. Erano parmigiano reggiano. Tra l'altro c'hanno un sapore strano. Perché essendo sottilette al parmigiano. Non erano proprio sottilette normali. E erano tipo 5 dentro. 6. Una cosa del genere. Queste sono 16. Bene. Comunque. Assemblo il tutto. Ah. E c'è pure le patatine fritte. E. Incredibilmente. Ma forse perché erano in offerta. Anzi. Sicuramente. Le più economiche patatine. Sono della McCain. Nel senso che quelle del supermercato. Costavano di più. L'unica che costava meno. Non si poteva però fare in forno. Solo fritta. E. No regà. Cioè. Le patatine devono necessariamente essere fatte in forno. Anzi. Friggitrice ad aria. Quindi ho preso le steakhouse. Sono aperte. Perché Luca l'altro giorno le ha volute mangiare. Quindi ho detto. Vabbè. Falle. Tante uguali. Insomma. Sempre queste so. Scena. Eccoci. Allora. Il panino non si è sbriciolato. Quindi. Se posso dire. Piccolo. Perché piccolo. Ma meglio di quello più costoso. Questo più economico. Scusate. Ho preso i prezzi. Mi sono perso lo scontrino. Non so. C'ho la capoccia a farfalle l'altro giorno quando ho fatta la spesa. 3 euro e 83 al chilo. Quindi poco. L'hamburger. Allora. Perché la disquisizione è stata questa. Nel banco frigo. Cioè frigo. Non freezer. C'era un altro tipo di hamburger. Ma in realtà non sono quei burger che simulano la carne. So quei crocchette. Deve. Cioè tipo. Vegetali. Capito. Cioè. Sopro di verdure. Quindi per me. Se so di verdure. Non so. Hamburger. Come quello che abbiamo provato. Nel più costoso. Che era effettivamente una cosa che simulava la carne. Anche come sapore. Quindi Luca mi ha detto. No. Così non vale se compri quello di verdure. Perché. È vero che costate meno. Ma. Non è un vero hamburger. Manco questo è un vero hamburger. Però. E. Invece. C'era nel banco freezer. L'altro. Che era quello più economico. Che era questo. De Valsoia. E costava 18,60 al chilo. 2,79 euro. Due micro burger. Perché per entrare dentro a sto panino. Regà va sicuro. È veramente piccolo. Cioè. È proprio. È proprio piccolo. Capite. È proprio. Veramente piccolo. Tra l'altro. Una tristezza. Perché c'è manco una foglia di insalata. Comunque. Assaggiamo com'è. Non ho mai mangiato questi mesà. Non c'erano quelli green cuisine. Ma. Un bel carne. Ma è strano. È inquietante. Sì. Mmm. Non è malissimo. Non è malissimo. Bene. Pensavo peggio. Certo. È microscopico. Ce ne volevo mettere due. Però vabbè. Pareva brutto. Allora. Vediamo invece le sottilette. Ah. Però se cerco sottilette. Mi da solo le sottilette vere. Ho trovati. Allora. Le sottilette più economiche. Ce stanno raga. Ma perché. Non lo so. Vabbè. Tipo. Meno dei 5 euro. Comunque. Una cosa del genere. Perché sul sito. Non ce so. Dovrei poterle comprare. Anche dal sito. Boh. Mmm. È buono. È solo molto triste. Perché. L'altra volta. Mi sa. C'avevo una fetta di insalata. Da metterci dentro. Ma non ce l'ho. Vabbè. E poi le patatine. Allora. Forno country. Erano. Stack house. 2 euro e 65. Ma no. Sono sicura. Che erano in offerta. E forse da qui. Non mi dà l'offerta. Perché non ho inserito la tessera. Comunque. Era meno di 2 euro e 65. Tipo 1 euro e 99. Mmm. Però è buono. Le patatine. Ve lo posso già dire. Sono buone. Perché l'altra sera. Luca ha fatto. E me le ha mangiate. Vabbè. Sta marca di patatine. È buona. Il fatto è che c'erano quelle. Più economiche. Della Selex. Il problema è che. Non si potevano fare in forno. E. Se compri quelle. Dove non c'è scritto da forno. E provi a farle in friggitrice ad aria. Non si cuociono mai. Cioè. Quelle le devi solo frigge. Quelle invece. Top. Le vieni a crosticina. Buonissime. Quelle da friggia. In friggitrice ad aria. Anzi. Magnano. Mmm. Buono. Buono. Con l'evento che. La prossima volta. Potremmo pensare di farlo. Tipo. All'euro spin. Perchè me l'avete scritto come commento sotto agli altri video che abbiamo fatto di sta serie. Mi piace. È divertente. Lo faremo all'euro spin. Che vuoi ma di te? Non lo so. Va bene. Io già che ho il computer mi guardo una bella serie tv. Finisco di cenare. E dopo mi sfondo di gelato. Evviva. Quindi. Queste erano le cose più economiche del supermercato. Wow. Bilancio? Meglio il più costoso? Sì. Per la zuppa. Cioè. Tutto il resto più o meno equiparabile. Ma regà. Quella zuppa era. Cioè. Mi sei riproposta per tipo tre ore dopo che l'ho mangiata. Una cosa terribile. Ancora sento l'odore. No. No. Per me quella zuppa è un no. E quindi questo è più economico sicuramente. Ma non è meglio del più costoso. Assolutamente. Quindi. Da questo. Oh cinina. Aspetta. Ti faccio venire a salutare. Scusate. Che c'ha bisogno dell'ascensore. Eccola. Quindi. Da questo video mangio il più economico del supermercato. È tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ma gera un mare. Ciao.